Salve a tutti, io sono David Bonanno, lavoro per Mokkes Backline Rent di Firenze e sono qui alla Yamaha Ride & Passion in qualità di responsabile tecnico di Mokkes per conoscere le novità della Yamaha. È stata una giornata decisamente molto interessante, si apre questa doppia situazione motori e audio e molti di noi di Mokkes sono motociclisti quindi non c'era miglior posto dove presentare i nuovi prodotti Yamaha. Noi siamo stati bene, il materiale presentato è come quasi sempre lo è Yamaha, di grande affidabilità e di grande interesse. Noi da tanto tempo lavoriamo a stretto contatto sia audio ma soprattutto Backline con questa azienda, ci siamo sempre trovati bene. Da ormai tanti anni giriamo l'Europa con Benson, con le batterie Yamaha e siamo decisamente molto molto amici di questo brand.